Ciao raga, videuccio di mezzanotte per parlare di Sassuolo Juve finita 1-2 partita che ragazzi secondo me deve essere la conferma per quel che riguarda la classifica che il Napoli deve tornare un po' che i piedi per terra perché adesso la Juve si è portata a meno 1 e ora il Napoli rischia asseramente di perdere addirittura la zona Champions oddio magari non di perdere la zona Champions ma di perdere il terzo posto sinceramente ragazzi il Napoli per la stagione che ha fatto può non vincere lo scudetto può finire terzo ma perdere la zona Champions o perdere il terzo posto secondo me non è accettabile quindi ora vediamo un po' come va con questo ritiro permanente indetto dalla società non so cosa vogliono fare, stanno uscendo 300 notizie diverse una dice che Spalletti ha voluto il ritiro, la società ha consentito l'altra dice che dei giocatori si sono picchiati negli spogliatoi Osimena è inveito contro dei tifosi, Meret ha pianto e oddio sinceramente vedere un Meret che prende coscienza dei suoi errori non mi dispiacerebbe però se la squadra reagisce in maniera addirittura violenta non è una buona cosa perché vuol dire che c'è tensione nello spogliatoio e quindi sarebbero anche capaci di perdere le prossime ora, le prossime in calendario non sono difficili, non sono proibitive però è bello che quelli dietro corrono, la Juve inizia a correre lì dietro la Juve sicuramente secondo me vingerà queste ultime partite di campionato e il Napoli deve mantenere il terzo posto, che cavolo per forza di cose cioè veramente adesso è un monito, è un allarme manteniamo questo cazzo di terzo posto perché se no veramente è la stagione più da incubo che io abbia mai vissuto oddio forse no perché quella con Angelotti è inequiparabile però qua siamo davvero davanti ad un ammutinamento 2.0 cioè veramente siamo lì è una situazione proprio orribile parlando della Juve purtroppo non ho nemmeno visto la partita raga perché ero fuori però una Juve che comunque ha saputo reagire contro il Sassuolo che è una squadra che se la gioca una Juve che comunque, sì con i cambi è riuscita a vincerla e complimenti allora noi ci vediamo alla prossima iscrivetevi al canale commentate lasciate un po' di gioco ciao a tutti